bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video perché questo appuntamento questa sera vi avevo già avvisato su instagram ragazzi seguitemi su instagram così almeno nelle stories vi avviso vi metto anche qualche feed guardate che barbazza è malvagia però è perché comunque comunque ragazzi stavo dicendo cosa è successo praticamente è arrivato un pacco da warner bros e grazie mille ragazzi sai benissimo ti ringrazio tantissimo ringrazio la warner bros per avermi mandato questo pacco quindi ragazzi veramente grazie davvero è arrivato un pacco della warner bros che cos'è non lo so lo apriremo insieme ovviamente so di che gioco stiamo parlando ma facciamo qualcosa ovviamente insieme a voi quindi apriamolo io in questo momento non lo so voi nel titolo già lo sapete ma chi se ne frega cosa sarà mai è enorme andiamola a vedere sul tavolino non vi preoccupate ragazzi vi farò vedere tutto non vi preoccupate vediamo che cos'è è una valigetta la valigetta ragazzi di hitman 2 valigetta che nel gioco potrà essere utilizzata per vari scopi quindi mi raccomando poi se prenderete il gioco guardate guardate i vari utilizzi che si possono fare con la valigetta ma andiamo ad aprirla cosa c'è dentro lo so la copia del gioco ciao ragazzi c'era la copia del gioco quindi e che che è no ragazzi c'è non no sono degli occhiali e che cosa vedrò allora ragazzi una cosa pazzesca praticamente all'interno della valigetta ho trovato vabbè la copia del gioco ottimo ma una cosa molto importante che ho trovato degli occhiali e degli occhiali un po' la mission impossible no dove posso vedere all'interno un filmato e adesso lo guarderemo insieme io mi metterò gli occhiali con le cuffiette perché all'interno degli occhiali sono collegati anche delle cuffiette e poi voi lo vedrete sullo sfondo quindi una figata ragazzi una figata non ho parole facciamolo come lo miracolo do not mistake this message for an offer of friendship your name was passed to me by someone i'm inclined to trust she has been watching you and believes you have the potential to be a silent assassin the silent assassin is a master strategist always staying two moves ahead most importantly someone who leaves no trace and never slips up can you be a silent assassin can you perform on my level or will you slip up like all the others a già mi è rimasto anche il segno porca misina beh fighissimo ragazzi veramente cioè praticamente sapeva il nome del canale è stato fighissimo ricevere una sorpresa del genere da parte di warner bros questo ovviamente per farvi capire la precisione di questo di questo regalo ma comunque va bene ragazzi va bene ci saremo mappe accettiamo la sfida pazzesco pazzesco comunque ragazzi allora che cosa abbiamo trovato all'interno della valigetta quindi ricapitolando valigetta con le chiavi è perché poi non è che tu dici chiudo questi ed è finita no sono anche le chiavi quindi poi li chiudi a chiave e non puoi sganciare quindi figata assurda una copia del gioco ovviamente e gli occhiali ragazzi che si possono ovviamente caricare quindi possono funzionare anche senza fili quindi si caricano e hanno le cuffiette e potete caricarci dentro file video audio immagini foto quello che volete e magari che ne so andate a letto non volete disturbare gli altri vi guardate un film vi guardate che ne so vi sentite della musica tranquillamente senza romper le scatole nessuno quindi è stato veramente un bel regalo un bel regalo da parte di warner ma soprattutto ragazzi un messaggio un po alla mission impossible no dove si guardano le missioni con con gli occhiali ed è stato veramente veramente figo ricevere tutto questo quindi li ringrazio tantissimo grazie veramente warner per quanto riguarda il canale ragazzi aspettatevi video su hitman 2 perché sta per uscire ci vediamo tra un paio di giorni con le prime missioni quindi occhio perché sarà sicuramente una figata assurda vi saluto ragazzi un abbraccio un bacione valigetta spettacolo ci vediamo nei prossimi video bella slafti ciao